Questo programma è offerto da Grazie a tutti Salve, buonasera a tutti Marco Bruttapasta da Capri Event Stiamo seguendo il ritiro del Napoli Siamo ormai agli sgoccioli Napoli che resterà qui in Trentino Fino al 30 di luglio E meno male direi che sono rimasti pochi giorni Perché la temperatura qui in Trentino Sta assomigliando sempre più a quella di Castelvolturno E io non sono da solo Il bello della diretta Ho due ospiti Do subito il microfono Ad una gentile presenza Valeria Allora salve a tutti Un saluto ovviamente a te A tutti i telespettatori che ci stanno ammirando Quest'oggi ovviamente è un'altra giornata di ritiro Qui a Di Maro Folgarida Siamo felici insomma di assistere a questa preparazione del Napoli Che è molto importante per la stagione in corso E abbiamo anche un super ospite Il professore Gianni Borrelli Che a me mi fa sembrare uno sfasulato Perché ieri è venuto da Di Maro 9 e mezza da Napoli Alle 17 era pimpantissimo Qui io non so come faccia Dopo quanti chilometri ti sei sciroppato La cosa che voglio segnalare A chi ci ascolta Specialmente dall'altra parte A chi mi conosce in regia È che faccio lo stesso ritardo Quando faccio 900 chilometri O due chilometri Partendo da Napoli Quindi Per fatto democratico Niente Abbiamo il piacere di avere con noi Valeria Grasso Insomma che abbiamo Ci siamo incrociati E qua fuori è stato veramente un rapimento Anzi Infatti la ringrazio Perché si è fatta rapire Senza opporre molto all'esistenza E niente Siamo qui Oggi è stata una bellissima giornata di sole A Di Maro Marco Siamo stati tutti quanti Veramente colpiti Da questo clima straordinario C'era un clima anche positivo Durante l'alimento del Napoli Credo che sono rimasti un po' delusi Molti tifosi Perché si aspettavano Una sessione più lunga Una durata più lunga Mentre invece Forse il caldo eccessivo Ha suggerito allo staff Atletico del Napoli Di ridurre un po' i carichi Anche perché sono sotto carico i ragazzi Quindi hanno fatto Una situazione un po' più veloce Ti ridò il microfono Per le tue riflessioni Marco Sì vi faccio un cappello iniziale Così poi vi potete scatenare Siete anche liberi di dire cattiveri Oppure non dirle Se ritenete che non sia il caso Aggiornamento Aurelio De Laurentiis Oggi ha parlato Non parlava da molto tempo Da circa 24 ore Praticamente Ha parlato sia alla radio ufficiale Radio Chris Chris Napoli Che a Mediaset Ha reso un'intervista Dicendo cose interessanti Sul calciomercato Se ieri sembrava Almeno dal punto di vista del Presidente Sfumata la pista Sabali Aveva detto falso All'arrivo del senegalese Del Bordeaux Oggi ha ammesso Che è una pista Che stanno ancora seguendo E c'è una problematica in particolare Sugli extracomunitari Che forse potrebbe favorire L'arrivo di Sabali Rispetto ad Arias O Arias Se lo vogliamo pronunciare Nella maniera Dei colombiani Il problema Extracomunitari Dicevo Perché c'è Oshoa Che è extracomunitare Di un portiere Che il Napoli sta seguendo SPN Emittente In questo caso Versione sudamericana Ha praticamente annunciato Oshoa Entro fine settimana Sarà il portiere del Napoli In quel caso Verrebbe Sabali Con l'arrivo di Oshoa Altrimenti Venendo il colombiano Del PSV Si virerebbe E io lo dico Apertamente Non sarei troppo contento Per Bardi Che secondo me È un portiere Che aveva in passato Diciamo Grandi recensioni Non le ha mantenute Ma in ogni caso Non è a livello Del portiere messicano Voglio sentire Valeria sul punto Chi auspichi Tra Ovviamente Tra questi portieri E i tersini Che sono in ballottaggio Sul resto Delle dichiarazioni Poi Pare che abbia blindato Inglese Che molti ieri Davano in procinto Di passare al Parma O in prestito O Diciamo Sotto altre formule Ha detto Testualmente Ho detto ad Ancelotti Che Se dovevo dare inglese In prestito No 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 Me lo devi tenere qua E poi diciamo Ha stigmatizzato I commenti Giustamente In questo caso Molti commenti negativi Sul profilo Instagram Dell'attaccante Da parte di alcuni Beceri Che non sono definibili Come Non possono essere definiti Tifosi A te Valeria E poi Gianni No Per quanto riguarda I nuovi acquisti Devo dire Anche io sono molto contenta Perché abbiamo visto L'opera un po' In questi giorni L'abbiamo visto anche In conferenza stampa Mi hanno molto colpito In primis Fabian Ma Simone Verdi E anche Roberto Inglese Che insomma Tra l'altro Ha subito un lutto In questi giorni Ma è rientrato qui Per gli allenamenti E devo dire Fa bene Secondo me Il nostro presidente A non cederlo Perché Nell'ottica Di svolgere De tre importanti competizioni Anche quest'anno C'è la necessità Di avere una rosa Amplia Con persone valide Inglese ha dimostrato Di avere dei bei numeri Tra l'altro Io credo Che Ancelotti Propenda Per un bomber Per una punta centrale Che abbia le caratteristiche Fisiche Tecniche Che siano più rispondenti A un milico A un inglese Quindi Ritengo che Se non dovesse arrivare Quel grande nome Che tutti quanti noi Ci aspettavamo Che in effetti Desiravamo Insomma In questi giorni Anche se il mercato Non è ancora finito Direi che fa benissimo A tenere A tenere inglese Per quanto riguarda Il discorso del terzino Mi piace anche a me Molto Sabali Devo dire E quindi Mi farebbe piacere Ovviamente Tra l'altro Sendo senegalese Come Goli Balì Potrebbero Insomma Troverebbe già Come dire Un amico All'interno del gruppo E infine Il discorso del terzo portiere Certo il terzo portiere Magari essendo terzo Non è Diciamo Insomma È difficile pure Insomma Che venga utilizzato Anche se poi vedi La storia ci insegna Che meretta Ha avuto questo infortunio Quindi si è creata La necessità Di avere Un terzo portiere Che secondo me Poteva essere Continuo all'inizio Ma che poi In effetti Stiamo notando Che si va Invece a cercare Tra Bardi Ochoa E Ochoa Ovviamente Ha più Numeri Ha più frecce Al suo arco Ma insomma Nel caso Se non si dovesse verificare Tutto il gioco Del discorso Insomma Dell'internazionalizzazione Del punto Che si deve liberare Un posto Per quanto riguarda L'extracomunitario Allora Si dovrebbe propendere Come dicevi tu Per una soluzione diversa Gianni A te la parola Guarda Comincio dagli attaccanti Secondo me Confermando Milic In attacco È quasi scontato Che non ce l'ho Ti confermi Anche Inglise Perché La coppia Milic Inglise È una coppia omogenea Coppia omologa Nel senso che Se l'anno scorso Mertens E Milic Erano alternative Di gioco Nel Napoli Non di Non di cambi Durante la partita Perché Milic Serve per un tipo Di tattica Mentre invece Mertens Sarà più funzionale A un A classico 4-2-3 Con una Tra virgolette Il falso 9 Nel caso invece Di Milic Inglese Sono esattamente Conciliabili Uno con l'altro Anche i cambi In corsa Non cambierebbe In moto Ma soltanto Eventualmente La persona Che entra in campo Quindi io credo Che insomma L'inglese Sono contento per lui Sia per Ancellotti Una freccia da scoccare Nel caso in cui Milic Abbia bisogno di riposo Abbia bisogno di fare Di respirare un po' Nella stagione O nell'arco Di una stessa partita E il discorso Che tu facevi prima Riguardo Sabali E il discorso Sacro Santo Io credo che Intervengano molto Argomenti del tipo Del passaporto Del giocatore Per quanto riguarda Il colombiano Secondo me C'è questo problema Anche se Mi pare che Ancellotti Avesse Espresso quasi Una preferenza Verso Sabali Rispetto a Arias Sebbene Arias Ha dei numeri straordinari Perché ha fatto cose Che secondo me Lo mettono veramente Un po' come Fabian Da quei calciatori Asti nascenti Europei Che potrebbero dare Il meglio di sì A una grande squadra Come il Napoli Anche perché In Coppa Europea Come la Champions League Questi calciatori Un po' si esaltano Cioè confermano Conclamano Certe qualità Poi bisogna Un po' vedere Come poi Ancelotti Interpreterà Anche i moduli Perché voglio dire Noi abbiamo bisogno Comunque di una Ripresida La fascia sinistra In questo caso Che è una fascia dolente Perché Goulam Da quello che si prospetta Avendo avuto questo Problema Alla patella Che insomma Si è ripercosso Poi sul recupero Del legamento Del cilare Costuito con Questo pezzo Di tendine L'autulio Eventualmente Insomma Bisogna capire Se lui torni Entro l'autunno Oppure addirittura Se ne parli Per fine anno A questo punto Bisogna capire Come e quando Ancelotti potrà Utilizzare L'acquisto Che farà in difesa Complementare A questo punto A un fatto tattico Ma anche Addirittura Necessario Per un discorso tecnico Perché bisogna Presidere una fascia Dove oggi Il povero Mero Lui Si vede un po' solo E oggi Anche assolato Diciamo Da un punto di vista Tattico E poi vi voglio sentire In merito Finora abbiamo avuto La possibilità Di vedere Gli allenamenti Di vedere due gare La partita con il Gozzano E soprattutto La partita contro Il Carpi Per quanto Possano essere indicative Questi amichevoli Io direi Non so se siete d'accordo Io ho visto Gli esterni difensivi Isai e Luperto Ovviamente Luperto Una soluzione Di fortuna Molto molto più avanzati Rispetto a quanto Non lo fossero Con Sarri E Isai In molti momenti La cosa che mi colpiva Dalla tribuna Nella partita col Carpi Era più avanti Rispetto ad Alla Nel centro-destra Del centro-campo Schierato Da Sarri Quindi io credo che La scelta del terzino Dipenderà anche Da questo Mi è parso di capire Che Sabali Ha caratteristiche Più offensive Oltre ad essere Ambidestro Rispetto Ad Arias E la domanda Che vi voglio fare A parte considerazioni Tattiche sul lavoro Che sta facendo Ancelotti Le vostre impressioni Ma secondo voi Un giocatore Come Isai Può andar bene Per Ancelotti Io lancio Questa provocazione Io credo che il Chelsea Abbia il terzino Ideale per Ancelotti Che è Zappacosta E il Napoli Ha il terzino Ideale per Sarri Che è Isai La butto lì Se Giuntoli E soprattutto De Laurentiis E Chiavelli Ci stanno vedendo Allora Dal punto di vista Tattico Tecnico Ovviamente Essendo questa Una delle caratteristiche Che fa la differenza Tra il gioco Di Sarri E di Ancelotti Ovviamente Concordo con la tua analisi Adesso non so bene I giochi di mercato Se possono coincidere Con questo desiderio O altrimenti Isai Sarà Tra virgolette Costretto Ma io vedo Che tutti i giocatori Del Napoli Hanno comunque assorbito E volentieri Si prestano A quelle che sono Le indicazioni del nuovo mister Anzi Cercono di mettersi in mostra E da questo punto di vista Mi riferisco in particolare Ai ragazzi del centrocampo Abbiamo un bellissimo centrocampo Veramente pieno di grandi giocatori E credo che ognuno di loro Poi cercherà di mettersi in mostra Per conquistarsi la maglia Perché insomma Diciamo che Prendiamola positivamente Questa cosa Perché ovviamente La caratteristica Di Ancelotti Per questa stagione È che Sono certa Che avrà diverse soluzioni Da poter utilizzare Diciamo che Meno È un po' più È molto più flessibile Forse di mister Sarri E quindi Magari farà Utilizzerà Delle soluzioni Molteplici A seconda poi Di come si metterà la partita Di quello che è l'avversario Il discorso degli esterni Il discorso dei terzini Ovviamente È diverso Erano più bassi prima Adesso sono più Sono diciamo Più avanti Adesso Stiamo aspettando L'acquisto del terzino Diciamo che Ovviamente Di cui abbiamo bisogno Questo non si nasconde più nessuno Lo dice lo stesso presidente E quindi appunto Ripeto Il mercato non è ancora finito Secondo me Ci saranno Delle belle soluzioni A cui A cui assisteremo Gianni Prima di darti la linea Io dico solo Il terzino Lo stiamo attendendo Da poco tempo Io personalmente Dal primo anno Di Benitez Questa è buona No no vabbè Insomma avete detto Tutto voi È benissimo tra l'altro Lo dico solo Aggiungo solo questo Con sforzo Perché parlare dopo Valeria È molto complicato Perché è veramente Esaustiva Nelle sue Argumentazioni In realtà Ancelotti usa questo Con non possesso Non possesso palla Avvicina molti centrali E gioca con i due laterali Un po' più avanti A formare questa sorta di trapezio Con lato corto Molto piccolo Questo facilita molto La fase di Diciamo Di difesa Quando poi la palla Ce l'hanno I nostri avversari Perché i riferimenti Specie per la linea di fuori gioco Sono un po' più semplici Da adottare È un gioco Che tutti conoscono Ancelotti lo fa Specie quando ha fatto il rumbo A centrocampo Lo fa da sempre Per cui anche i calciatori Che amano vedere Che non sono Real Madrid Piuttosto che PSG Bayern Chelsea Hanno imparato Forse anche guardando Ancelotti delle cose E poi bisogna dire anche Che gli acquisti Che il per Napoli Sono acquisti molto Giovani In tutte le fasce In tutte le fasce del campo Per cui chi entrerà In questa squadra Anche fosse a metà agosto Quando finalmente Il mercato si chiude Entrerà Insomma Senza grosso sforzo Noi parliamo ieri E è stato fatto Anche qualche intervista Su questo argomento Che in Napoli Si presenta Anche di partenza Di Maro Con una funzione Un po' social Di ritiro Perché Il team building A cui tanto tiene Ancelotti È favorito molto Anche dal fatto Che i ragazzi Sono tutti quanti Ben allenati Noi abbiamo Dei grandi professionisti Credo anche Per rispetto Trevenenziale Verso lo staff medico Lo staff atletico Del Napoli Che insomma Non accetterebbe Di trovare in ritiro Al suo cospetto Giocatori Che hanno mangiato Troppo Troppi gelati Durante la fase Delle ferie E delle vacanze estive Quindi sono tutti questi ragazzi Sono già minuti In ritiro Con superanti test Di cupo Hanno fatto Un lavoro straordinario Quindi Ancelotti Può dedicarsi Ampiamente A argomenti Tattici E i ritiri Quelli del Napoli Ma in generale Sono sempre più ritiri Che servono sempre di più Ad amalgamare Concetti tattici E tecnici Sempre di meno A mettere in piedi Un calciatore Dal punto di vista atletico Perché si ritiene Che e si chiede Ai calciatori Tutto l'anno Di avere comportamenti Molto professionali Ed è meglio Il poco Ma spesso Che il tutto In piccoli parti Dell'anno Come in ritiro Dove si può fare Veramente poco Quindi credo Che Ancelotti Abbia un'ampia scelta Poi lui E' uno che parla Molto di calciatori Chiunque entrerà In questa squadra Così terzino enti Da quelli che abbiamo citato Non avrà difficoltà A connettersi Con il resto della squadra Uno perché i ragazzi Sono bravi ragazzi Valeria diceva Che citava il fatto Che abbiamo un bel centrocampo Io gioco belle persone Perché sono proprio Ragazzi semplici Quindi in questa squadra È facile amalgamarsi Non ci vuole molto Sì sul fatto Delle belle persone Per quanto le impressioni Della serie L'abito Non fa il monaco Vi dico la verità Oggi vedevo Fabian Ruiz Firmare gli autografi Le maglie Allo store Vedendolo Veramente una faccia Da bravo ragazzo Può sembrare Una stupidaggia Però dicevo Questo non me lo immagino Che un domani Crea un problema Su un aumento Di ingaggio Scherzi a parte Ritornando alle considerazioni Di Gianni Gianni tu hai anticipato In parte Una domanda Che ti volevo Fare Il cambiamento Dei ritiri Attuali E soprattutto Il cambiamento Che stiamo notando Con Ancelotti Faccio una premessa Irreperibile anche su YouTube Ci fu un'intervista Fatta da Sky Ad Ancelotti E al figlio Un'intervista Di circa mezz'ora Dove il figlio Davide A un certo punto Diceva Papà Forse si va verso Un'evoluzione Per cui i giocatori Arriveranno Al campo di allenamento Già allenati Con i propri preparatori E durante l'allenamento Ci potremo dedicare Esclusivamente Alla parte Tattica Se avete L'impressione Che in questo ritiro Già in parte Stia accadendo Non che Ancelotti Stia lavorando Poco dal punto di vista Fisico Però stiamo vedendo Un ritiro Diverso Rispetto a quello Rispetto a quelli A cui eravamo abituati Ai tempi Di Sarri Chiunque è stato qua Ricorda Un lavoro Molto lavoro Tattico Con i famosi droni Però anche Molto lavoro Fisico Io e te Ne abbiamo parlato In privato E dopo Ti prego Di ripetere ai telespettatori Quello che ci siamo detti Proprio sul fatto che I ritiri Così come venivano intesi Non dico negli anni 80 Ma anche fino a 4-5 anni fa I tempi di Mazzarri Stanno diventando Sempre più Anacronistici Nell'ottica di dover mettere Così tanta benzina Nel serbatoio Di una squadra Valeria Ma diciamo che Meno lavoro Forse Sul fisico Dei calciatori Più lavoro in campo Con la palla Forse più schemi Meno palestra Insomma Meno pesi Ovviamente anche io Ho notato Cioè Ed è non è che Lo vediamo quotidianamente Sarà Effettivamente Una mentalità diversa Un'inferione necessità Di dover Evidentemente Andare a lavorare Da questo punto di vista E un'attenzione maggiore Al lavoro invece In campo Sugli schemi Sulla tattica Come dicevi tu Come Davide Ancelotti Magari aveva già Pensato di fare Magari questo è Affidato Secondo me Al maggiore senso Di responsabilità Sugli atleti Che oggi sono Di veri professionisti Che utilizzano Il proprio corpo Per il lavoro E che giustamente Hanno proprio Hanno appunto La responsabilità Di doverci pensare Di dover Essere all'altezza Del loro compito Per quei 15 anni Di carriera Insomma Che hanno in linea di massima Nella loro vita Professionale Di calciatore Mentre invece È diventato Il calcio è diventato Tutto Tutto tattica Tutto campo Tutto schema E Ovviamente Ripeto Anche mi riferisco A quello che ho detto prima Nel momento in cui La squadra Cioè secondo me Bisogna essere intelligenti Tatticamente In campo Nel sapere anche Intervenire E cambiare Le carte in tavola Nel momento del bisogno Quindi diciamo È secondo me Più intelligente Effettivamente Intervenire dal punto di vista Del gioco E cambiando Necessariamente Se c'è la necessità Insomma avere Quell'intelligenza tattica Che io spesso vedo Per esempio in Amsic Sendo un giocatore Esperto Sendo un giocatore Che ha una visione di gioco In campo Ovviamente più ampia Uno deve anche E avere La responsabilità E la capacità Di poter intervenire Sul campo Se c'è il bisogno E se la squadra Si trova per esempio In situazioni di svantaggio A te Gianni Guarda Noi ne abbiamo parlato spesso Non in questi giorni Forse sono E qualche anno Ne parliamo Io non so quando Abbia rilasciuto Quest'intervista Davide No? Ecco Però io Dieci anni fa Ho abolito Un ritiro Precision agonistica In una squadra Famosissima Squadra agonistica Anottaggio Partenopea Che mi è costato Due anni Di posto Di lavoro Per due anni Poi ho litigato Non faccio nomi Perché Chi la sa La storia la sa Quindi Chi ci guarda Forse no Ma insomma Poi dopo due anni Sono otto anni consecutivi Che tutte le squadre Agonistiche Anottaggio Hanno abolito La sessione Di ritiro Preagonistica Che io Dieci anni fa Inaugurare Perché Quattro anni fa L'ho fatto La nazionale Di università Di giudo Tutte le nazionali Che insomma Per le quali Collaboro Con le tre nazionali Di giudo Ma non solo Anche le squadre Di vele Eccetera Non fanno più Preparazione Precision Perché Secondo me E' proprio quello Diceva Valeria Cioè Bisogna concentrare Sì sui Plus A 13 E questo lo fanno Benissimo I preparatori A 13 Oggi Nel calcio In tutti gli altri sport E poi Ci sono argomenti Che danno Quel valore aggiunto L'argomento Tattico Tecnico Dove può incidere Veramente l'allenatore Quindi In tutti gli sport Il calcio Non fa eccezione Arriva un po' dopo Il calcio Rispetto a queste cose Perché resiste A un'inerzia Devuta alla massa Che lo segue Pensi Ho dieci anni fa Ho creato una rivoluzione Che mi è costata Anche due anni Di stress E nessuno conosce Il canottaggio Se vogliamo È uno sport Un po' Poco diffuso Ancora Pensa di fare Queste cose Nel calcio In modo rivoluzionario Ti costerebbe Anni di polemica Se qualcosa Poi dovesse andare storto Ma il calcio Farà la stessa cosa Il calcio Usare i tiri Per fare ciò Che fa Cialotti Cementare il gruppo Affidare i parametri Tecnici Ai propri collaboratori Atletici Far cominciare A lavorare Lo staff medico Sui parametri E quindi cominciare A mettere in linea Tutti i calciatori Allo stesso punto Perché sai Nello sport di squadra È importante Che tutti i calciatori Abbiano omogenizzato Le preparazioni di singoli Perché avere uno Che ti fa 100 metri Oppure c'è un battito Che scende down In 8 secondi Di 50 battito In 8 secondi Di scende in 20 Diventa complicato Bisogna rendere omogenee Certe cose Quindi questo è un lavoro Che sapientemente Fanno in squadra Ma oggi ritiro Sempre di più Chi fa i ritiri moderni Ancelotti Che agito dell'Europa Lo sa bene Fa un ritiro Che serve specialmente A questo Da affida Ai professionisti E la responsabilità Oggettiva E soggettiva Della proprio Status fisico E si concentra Su argomenti Che possono far vincere Speriamo bene La nostra squadra Nelle competizioni Che farà Valeria Tu in parte Nel tuo ultimo intervento Hai anticipato Una domanda Che vi volevo fare Tu hai parlato Di Amsic Come vedete Entrambi Amsic In questo nuovo Per lui Ruolo di regista Credi che lo possa Interpretare al meglio O avresti auspicato Altro Quando si parlava Di una sua partenza Considerata la partenza Di Giorginio E quindi Un interprete Che andasse a sostituire L'Italo-Brasiliano Ovviamente I giocatori sono Completamente diversi Amsic E Giorginio Ma io credo che Amsic sia Assolutamente funzionale E possa essere funzionale All'altezza del gioco Di Ancelotti E considerato Che è un ragazzo Splendido Il capitano del Napoli Che non si discute A prescindere Per l'affetto Per l'affetto Che nutriamo nei suoi confronti No ma anche Ripeto Come ho detto prima Per l'intelligenza Tecnica Tattica Del giocatore Anche lui Sempre in forma Sempre Molto Educato Sempre molto Intelligente Nell'ascoltare Quelli che sono i consigli Del mister Ma anche Il fatto che Grazie alla sua esperienza A questa visione di gioco A questa Intelligenza tattica Insomma Che può sicuramente Essere di grande aiuto Io penso che qualcosa di buono Noi già l'abbiamo visto Abbiamo visto Dei bei Dei bei passaggi Dei bei lanci Insomma Amsic è uno che alza la testa Ti vede E praticamente Ti fa arrivare Il pallone Sul piede Insomma Quindi Con una certa precisione Insomma Forse questo andrà un po' a scapito Del tiro Del tiro da fuori Oppure della sua possibilità Di andare in gol Ma Ritengo che possa essere Al servizio della squadra Assolutamente un elemento importante Beh forse Dei calci da fermo Se vediamo un Amsic Che di rimbalzo Prende la palla E tira in porta Come diceva Valera Sarà più difficile Vedere Amsic Che tira in porta Durante un'azione di gioco Devo dire che Amsic Troverà Un terreno molto fertile Per la sua esperienza In Napoli Grazie a questi Input di Ancelotti Il baricentro basso Che lui deve interpretare Si fonda su un concetto chiave Che è un po' Si contrappone A quello che ha fatto Maurizio Sarri Questi ultimi tre anni No Cioè il fatto Il tocco di prima Di fronte al proprio compagno Evitare di girare Di fare le proiette E cercare di dare Sempre la sponda Come a biliardo Cercare sempre le sponde Più facili Senza girare Di troppi gradi La propria visuale Oggi viene modificato Perché Ancelotti chiede Ad Amsic Adiavarà Di fermarsi un secondo Rispetto agli altri esterni Di prendere la palla Fare lo stop Alzare la testa E eventualmente Passare al compagno Di fronte Ma Come diceva Valeria Perché no Verticalizzare Se c'è il compagno Che sta tagliando E quei tagli Che fa Cagliecon Che fa Mertens Molto spesso Andate un po' nel vuoto In questo gioco di tikitaka Che non consente Una concentrazione Anche più spaziale Più olistica Rispetto al campo Che faceva Maurizio Sarri Il nostro grande amico Maurizio Sarri Oggi invece Si rende possibile Già abbiamo visto Col Carpi Due tre tagli Uno in particolare Insegna Cagliecon Il gol di Cagliecon È stato un gol fantastico Se fosse stato fatto Contro una squadra In Champions È stato un gol Celebrato In tutte le televisioni europee Forse ha sbagliato La partita in cui farlo No Ma quello è un taglio O col Carpi O col Barlo E quello è millimetrico Cioè il taglio di Amsic Che a Cagliecon Che si è fatto trovare Alle spalle Dell'esterno di destra Della difesa Del Carpi È stato una cosa Da scuola calcio È stato possibile Perché Insegna Non ha passato la palla In quel momento Al suo Non ricordo che fosse Sulla sua destra Ma ha alzato la testa E ha fatto il taglio A Cagliecon Quindi abituiamoci a questa cosa Lo dico e mi vengono i bividi Perché un po' Questo discorso del taglio Ci verocizza un po' L'azione A volte anticipa un po' Anche le reazioni Dell'avversario E ci può fare anche Un po' divertire Secondo me Quanto ci ha fatto divertire Anche Sarre Perché sono giochi diversi Però secondo me Dobbiamo già abituarci A un futuro Che ci vedrà Assistere a partite Che hanno dei tempi diversi Rispetto alle giocate Del Napoli Negli ultimi tre anni Sì Chiaramente sarà un Napoli Diverso Quello di Ancelotti Rispetto a Sarri Come dicevate voi Le prime differenze Già si sono viste Col Carpi O la differenza Che ho notato Molti cambi di fronte Io vi dico la verità Credo di appartenere Al partito Dei Sarriani Convinti E mentre vedevo Il Napoli Di Ancelotti Un po' pensavo Che bella squadra Però forse Una squadra Più simile a tante Che se ne vedono in giro Rispetto alla particolarità Di Sarri Parlando d'altro Oggi usciranno I calendari E il Napoli Non potrà fare La prima partita In casa Per i lavori Al San Paolo E non potrà affrontare Le squadre Tra l'altro Retrocesse Affrontate nella prima giornata Degli scorsi tornei Vale a dire Pescara e Verona Né la squadra affrontata Anch'essa retrocesse All'ultima giornata Il Crotone Paradossalmente Potremmo anche affrontare Nella prima gara Una Juventus Un Inter Che ha giocato la prima Fuori casa In trasferta Vorreste un avvio Così shock Per il campionato del Napoli O meglio affrontare Queste squadre Più in là Ma direi Che meglio Forse un inizio soft No Ma non per No Ma perché Diciamo Semplicemente Perché Ecco noi Insomma Ecco l'inizio Per la preparazione Qui a Di Maro Importantissima Per la stagione Che piano piano Ecco sta Facendo abituare Un po' tutti Sì noi Cioè i giocatori Prima di tutto Ma anche noi Addetti ai lavori A quello che può essere Il gioco che il Napoli Mettereà in campo Nella prossima stagione Però Come dire Le prime gare Ovviamente Vedono sicuramente Una squadra Ma non sono il Napoli Mi riferisco a tutte le squadre Non ancora Al top della condizione Quindi Sarebbe necessario Ecco prima di tutto Fare un po' più di Preparazione Un po' più di allenamento Ecco mettere appunto Qualcosina in più Per poi affrontare Queste gare Un pochino più complicate Insomma Ma anche per il bene Del calcio Dello spettacolo Oltre che ovviamente Del risultato Mi dicono che siamo Ai saluti Valeria Gianni Salutate il pubblico Io dico Auspico forse Una Juve La prima giornata Perché magari anche la Juve Non è pronta Un Cristiano Ronaldo Reduce dalle vacanze Magari avrà un po' di pancetta Hai visto male Cose assurde della vita I saluti Grazie mille Grazie a tutti È stato un vero piacere E niente Seguiamo Seguite Seguiamo sempre il nostro Napoli Forza Napoli sempre Mi associo a ciò che ha detto Valeria Forza Napoli E per il discorso Dell'inizio del campionato Sono asceticamente Legato a un olfato Chi è? Io saluto il nostro pubblico Alle 5 Interverrò C'è lo studio da Napoli Con Liberato Ferrara Interverrò con altri ospiti Spero di nuovo Gianni Valeria Se ci vuoi venire a trovare Alle 5 Vedeteci su Capri Event A dopo Questo programma è stato offerto da Grazie a tutti Sono asceticamente Sono asceticamente Sono asceticamente Sono asceticamente Vacanze da sogno in Trentino Presso la residenza turistica RTA Nevesole Folgarida Situato nella Val di Sole La struttura offre ai suoi clienti La comodità di usufruire di appartamenti Con angolo cottura Camere doppie o singole Saune, sala giochi E altro ancora Con i servizi di un hotel Cosa aspetti? Contatta il numero 046-3988-111 E rendi unica La tua vacanza Cosa aspetti? Facela le attese sono scrigni di ricordi che il tempo rende labili i pensieri e le immagini si rincorrono alla ricerca di sensazioni perdute il tuo profumo, la tua delicatezza, l'unicità del tuo sapore niente è perso, tutto si trasforma